Rafforzare l'integrazione avviata dai predecessori, dottor Caradore per l'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Cona, Claudio Vagnini per l'azienda sanitaria territoriale di Ferrara, ringraziati per il lavoro svolto, quindi procedere alla creazione di un modello di integrazione fra le due aziende sanitarie ferraresi che dimostri di funzionare e quindi offrire vantaggi concreti e bisogni di salute della popolazione. Questa è in sintesi la mission affidata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini alle nuove manager delle aziende sanitarie ferraresi, Paola Bardasi, neodirettore e commissario dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna a Cona, e Monica Calamà, il nuovo direttore generale dell'azienda USL di Ferrara. Una sfida questa che impegnerà i prossimi quattro anni del loro mandato, che già si presenta con alcune linee chiare. In primo luogo la creazione di un team permanente costituito da professionalità sanitarie amministrative per progettare e rendere operative le soluzioni via via individuate in un work in progress che coinvolgerà cittadini e amministratori locali nelle verifiche periodiche. Entro il 15 luglio quindi la nomina dei direttori sanitario e amministrativo delle due aziende che faranno parte del tavolo permanente per assicurare percorsi univoci ed omogenei. Intanto in questi giorni è iniziato per Monica Calamà il tour attraverso le strutture sanitarie della provincia che conta complessivamente 1.365 posti letto, 474 gestione diretta, 710 dell'azienda ospedaliera universitaria e 181 del privato accreditato. Tra i principali obiettivi di mandato della dottoressa Monica Calamà, DG dell'azienda sanitaria territoriale, il recupero delle prestazioni sospese a causa Covid-19 rallentato in questi giorni dalla necessità di ricreare le agente e riavviare l'attività in condizioni di sicurezza, quindi inevitabilmente in tempi più lenti rispetto al passato, e la loro digitalizzazione. Attività complicate dalla molle di appuntamenti chiamate e registrate nel corso della ripresa, aumentate quasi del 300% per esempio nel mese di maggio. Potenziamento della telemedicina, dell'assistenza domiciliare, della sostenibilità delle strutture, della prevenzione del Dipartimento di Sanità pubblica anche nell'eventualità di un ritorno all'epidemia. Tra i tanti obiettivi di mandato di Paolo Bardasi, direttore generale dell'azienda ospedale dell'Università Sant'Anna, la riorganizzazione dei posti eletto di terapia intensiva e semintensiva, il riavvio della normale attività in condizione di sicurezza, la riduzione dei tempi di attesa e il coinvolgimento a tutti gli effetti nel percorso di integrazione dell'Università, luogo per eccellenza della formazione dei saperi, dice Paolo Bardasi, che grazie al processo di integrazione vedranno ricadute sull'intero sistema sanitario provinciale. Grazie a tutti.